Ciao ragazzi, ben ritrovati dall'Inter di Football qui a cercare di creare il calcio interstellare per voi oggi Venerdì, primo appuntamento, siamo sulle 13 vittorie in questa prima fascia Mai inizio fu più spumeggiante di questo, incredibile quasi faccio... Secondo me siamo stati molto fortunati anche col matchmaking e in realtà abbiamo avuto anche la fortuna ragazzi Bisogna sempre dirlo, ai momenti giusti perché quelle partite dure e complicate Siamo sempre riusciti a sbloccarle alla fine e a rimontare o magari a completare la rimonta alla fine Quindi un po' questo, però stiamo giocando comunque direi discretamente bene Creiamo tanto, continuiamo a creare tanto, tante azioni Certo si potrebbe essere un po' più cinici sotto porta, ma qual è un problema che continuiamo ad avere Terza divisione, Barcellona Intanto ragazzi come al solito io vi invito a lasciare un mi piace, iscrivetevi al canale se vi piacciono questi contenuti Perché mi aiuta tantissimo e vi ringrazio in anticipo per questo Vediamo il nostro avversario di oggi come si presenterà Ma prima un'occhiata alla nostra Inter con un Ciala in formissima Carlos Augusto meglio di Di Marco Arna meglio di Turam Dumfries invece è in grande spolvero Sombra anche in formissima e ci fa piacere Squadra, altra super squadra Che bello ragazzi Sto giocando contro Barcellona all time Non all time best, ma Comunque Nel senso c'è Messi, c'è Neymar Che è del Barcellona C'è Pedri, De Jong, Busquets Jordi Alba Che bello ragazzi Sono veramente contento C'è Guardiaola sto giocando contro il vero Barcellona C'è qualcuno di nuovo come Koundé, come Yamal, come Pedri Come anche De Jong e Raújo Sono contentissimo ragazzi E' proprio un Inter Barcellona Inter come contro Barcellona Best of Praticamente Mamma mia Quanto sono contento di fare sta partita Non so se mi conviene Dere l'Arnauto Cioè beh Adesso lasciamo Arnauto Che poi ci pensiamo Andiamo a mettere le marcature strette Su Neymar E su Niamin Lamin Yamal Poi direi che ci siamo Che bello Io penso che sarà molto contento anche lui Di vedere una partita del genere Perché è proprio Inter Barcellona E l'Inter a battere il calcio d'inizio E si parte Ma peccato per questo ritardo Quei di Lautaro Non riparare questa palla Dunfries bravo E' partito Arnauto Che la alza Ma la palla di Arna E la parata del portiere Ma di che parliamo? La palla di Arna Stupenda Stupenda Allora Sui calci d'angolo Dovremmo avere Tra virgolette Vita facile Perché il Barcellona Non è noto Per avere I saltatori Palla al centro E qui ancora Trash tecnica Ci va Io non so se ho invertito Pallino avanti C'è Carlos Augusto In copertura Nooo Volevo andare da Arnautovic Peccato Peccato perché Arnautovic Se l'altro Si era infilato benissimo Qui Fuor gioco Si Fuor gioco Di Lamini di Amal E ragazzi Li ho cambiati Perché Non so se anche Arnauto C'ha esterno a giro Ma poiché In generale All'autaro Ha una finalizzazione migliore Se deve tirare col piede debole Preferisco che Se ci deve essere qualcuno A tirare col piede debole Sia appunto lui Un cambio Non so se l'hanno fatto In realtà Comunque Arna Protegge Serve L'autaro che Però è agganciato male Malino Anticipo perfetto Qui di Don Fris 1-2 Perfetto che si concretizza Può andare Don Fris Che in velocità Guadagna al fondo C'è tutto solo Mkhitaryan dall'altro lato Che bravo Qui invece Ciao Che bella questa Gestione con Carlos Augusto Carlos al centro Sta arrivando Arnauto Dove ci ho anticipato Bravo Mkhitaryan Sempre a fare questi Recuperi perfetti 1-2 Con Arnauto Che c'è lanciato Arriva Mamma mia Barella stava pressando E allora Neymar Bravissimo Neymar Prova il numero Liberare Pedri Qui sta Sto anticipo C'è sto recupero Ok però La che fisce Praticamente di nuovo Messi che qui Non fa zoletto Si gira Calcio Ammurato Calcio d'angolo Peri la Barcellona Quanto è forte Messi Allora sul primo palo C'è Devre Spazza bene Insieme al recupero Qui Murato Anche questo All'interno Che prova Gestire con calma Allora per Arnauto Vecce che controlla il pallone E' partito Carlos Augusto Servito male Che è brutto Sto passaggio di Arna E' da lui Ha fatto quel passaggio Meraviglioso Tra l'altro con Quella palata Tocco sotto Che bravo Che bravo C'ha la Regalo Attenzione Qui in ritardo Barre qui non riesce Attenzione Pallone sanguinoso Verso a centrocampo Col destro Raga ma lo tenevo Marcato però Peccato Lui festeggia Giustamente Ha tirato col destro Dun frisera in copertura La palla è passata Purtroppo Mi sa che questa Non è una partita Su cui tenere Arnauto Ne pentirò Anche se Raga ma che parata Ha fatto Trashtag All'inizio Ma dov'è Perché non c'è Perché non c'è Nessuno Da questo lato E qui Miki Se n'era tornato Praticamente Quindi Bravo Miki però In avanti Per Arnautovic Da sfondare Questo No raga Non ci credo Non è fuori gioco Come fa a non essere fuori gioco Tacco di Arna Ma che gol ha fatto Arnauto Invece Proprio quando mi stavo per dire Adesso lo tolgo E partito Carlo Saku Sulla sinistra Piccolo break Al centrocampo Il class al centro Sta arrivando Lautaro Che anticipa Giordi Alba E non c'entra la porta Ma pericoloso qui Mamma mia Che classe di Arna Che poi tra l'altro Un gol meritato Perché Fa tutto lui Su quella fascia lì Per andarsene centralmente Fa tutto lui Ti propone bare Pucciolo che copertura E poi palla spazzata A questo punto E vabbè però Dico ok tutto Ma De Vre che vince su Cioè Messi che Messi che vince il contrasto di testa Su De Vre Però mi sembra Un po' al limite della follia Bravo Molto bravo Ancora Dumfries Di nuovo cross al centro Tash Tekken Vediamo se c'è il tempo Per il messa Alla dovrebbe esserci Che non è ancora Quarantasettesimo Quindi la palla è per l'Inter Sulla sinistra Ancora Carlos Augusto Guadagnare il fondo Respinto il cross Non c'è più tempo Stavolta però Ed è uno a uno Primo tempo Un gol Un Un fantastico Un gol di Di Messi Anche un Un gol da fantascienza Però di Arnaudovecci col suo tacco Pistico di fortuna In quel rimpallo Ovviamente ragazzi Ma era cercata L'azione Diciamo tra virgolette E mi pare Fallo questo Varela Varela Sta salendo ancora Domfries Come un treno Ma guadagnare il fondo Il cross al centro Respinto Mamma mia Per Arna E Era difficile Che bravo qui Mkhitaryan Che poi La calcia Su Pedri E si va a prendere Una rimessa laterale Importante Attenzione a questo Recupero Ancora Carlos Augusto Qui Mkhitaryan Non riesce a passarla Immediatamente Perdiamo un attimo L'attimo Bravo Carlos Augusto In questa copertura Parlanci in avanti Sta partendo Dunfries Sulla destra L'ha visto C'è l'anoculo L'ha servito Si propone Lautaro Prova a far passare Sta palla Solo rimessa laterale Dunfries Non ha fatto La sovrapposizione Che speravo Ancora per bare No raga Questo è fallo No raga Questo è fallo Che brutto Questo passaggio di bare Su Messi Sembra Si è sempre l'impressione Che arrivino tutti in ritardo Onestamente Vabbè Diciamo che Questa era abbastanza Intuibile Che bravo Con Day In questa copertura Importante Parla per Miki Sulla sinistra Cos'è al centro Che arriva C'è Arnautovic C'è anticipato Poi c'è l'anoculo Murato Si è un po' Esagerato Questo Per Arna No Arna Eh raga Questa era carina Esterno di Arnautovic Mamma mia Arna Brutta Brutta Questa è una bella combinazione Ragazzi Fatta molto Molto bene Arna Mi sa che con questa Andiamo a andare Di Marcus Per il resto Direi Miki È stanchissimo Vabbè Ma Miki sta Con questa Con questa nuova Cioè Con il fatto che lo sposto A sinistra Non so perché Ma lui mi sembra Ancora più dovunque Già era sempre dovunque Ma da quando l'ho messo A sinistra Perché ho spostato C'è la mediano Miki mi sembra Ancora più dovunque Non me la son sentita Di rientrare sul destro E calciare al giro Onestamente Ma non mi aspettavo Onestamente Che non prendesse la porta Ragazzi Anche perché era Senza Senza pressing Arnautovic Senza pressing Da solo davanti al portiere Bellissima Palla infilata Se non sbaglio Di Barella O di Lautaro Forse proprio Adversario Cercare qualche cambio Ma Ah 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 Spostato Messi Laterale Buona per l'auto Molto lento In questo controllo No raga Tutti in ritardo In questi Questi recuperi Anche qua raga Carlos Perché non chiudi Mamma mia Palla che Non ho capito Come riuscire a stoppare Sta palla Nel migliore dei modi Non passa Alla fine Rimessa laterale Per l'Inter Voglio vedere lui Ragazzi Ha fatto Ok Ha messo Luis Suarez C'è Pedro Sulla sinistra E proprio tutto il Barça Raga Che bello Suarez Messi C'è Cancelo Sulla sinistra Qualcuno di nuovo Qualcuno Qui Non ha mai messo Di seguire Ma che bravo Quei Bare Ma sta giocata Spero non mi costerà Troppo che sta giocata Mamma mia Gli ha fatto un'altra Astituzione qui Quindi ha tolto anche Messi Se non è che è stanco A questo punto Altrimenti non c'era Spigazzini Di togliere Messi Infatti c'è Dembele Proviamo a giocare Palla a terra Per barella Che si infila Può andare Bare Metti un po' il curo A spare Mamma mia Che spazzata Che è Bravo Bravo Non ci credo Non ci credo Non ci credo raga Non ci credo Scelta giusta Non crossare Peccato Ponte lento in questo caso Nostro Miki No raga Questi passaggi che gli passano Veramente No raga Ma vi prego Ma dai Oh mio dio raga Sta per fare Una sciocchezza Mamma mia E' quella occasione Di Arnatovic Ma pure quella Di la torra Adesso ragazzi Quella che mi Porterò Nel rimpianto Non c'è più tempo E' uno a uno Il goal Incredibile Di Messi Che poi ragazzi Ci pensate L'abbiamo conceduto Niente al Barcellona Solo un tiro da fuori aria Con Messi Di destro Che è entrato Da fare per Sommer E poi peccato ragazzi Peccato perché Si poteva E si doveva vincere Comunque Onore al nostro avversario Una bella partita Un grande avversario Bellissimo Per giocato contro il Barcellona Best of Abbiamo perso 5 punti Perché lui evidentemente Era più basso di noi In classifica Che peccato Che peccato Perché sarebbe stato Veramente carino Vincere anche questa Ragazzi E' tutto per il primo episodio Di questo venerdì Io vi ringrazio Per aver guardato Ci vediamo alla prossima Ciao a tutti Ciao a tutti